Sì, eccolo il terrapieno che è smottato questa mattina poco dopo le 11, rovinando assolutamente alle spalle di questo ristorante Miralago. Il cui titolare è il signor Mario, il signor Mario Paolo Morincasa, 72 anni, era in cucina con il suo chef. Sono arrivati immediatamente i soccorsi, sono arrivati i vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri e hanno cominciato a scavare a mani nude per tentare di liberare dalla terra le due persone. Purtroppo per il signor Paolo non c'è stato più nulla da fare, per il suo chef il ricorso in ospedale in codice rosso, come dicevate da studio. I vicini, coloro che erano qui, hanno parlato di un grosso boato, ma noi abbiamo invece, ne parliamo di quello che hanno trovato con Gianluca Cannone, capo reparto dei vigili del fuoco di Viterbo. Voi siete arrivati con le squadre di Gadoli e di Viterbo intera, i suoi uomini hanno cominciato subito a scavare però? Sì, il tempo di arrivare abbiamo trovato sia civili che carabinieri che stavano scavando a mani nude e noi abbiamo con le squadre riorganizzato un po' il lavoro, tolto tutti i tavoli e tutto quanto, abbiamo coordinato dall'esterno con gli scavatori privati, internamente abbiamo lavorato pure noi a mani nude finché abbiamo raggiunto, abbiamo sentito il rumore di questa persona ancora viva, il cuoco. Che vi ha chiesto aiuto, l'avete liberato? Questo aiuto stava a metà, col corpo sotto le macerie, una parte la testa fortunatamente era dentro, si era riuscito a inserire dentro al bagno, l'altra persona era vicina a lui. Grazie, grazie Gianluca Cannone.